Musica 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 Murcia Musica 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 Grazie a tutti. 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 oh dimone guarda qua saluta saluta guarda la guarda la popolare ma si sta a chiamato si sta a chiamato ma tu che ne fai c'è i video c'è i video non è nulla no no bevi il piatto bevi il piatto ma vai lancia beh però come l'è come l'è quante l'è con tutti rompi Simone le 15 giorni 15 giorni ma la pagata si lo pagavi o è sempre la solita no io la pago ma no ma no la prestazione la fava va la parte e soldi da quell'altra ti piace e la faccia la faccia Grazie a tutti